Io e Fabio ci conosciamo dagli anni 80. Ma come è un'intervista? No, devo andarvi. No, non è un'intervista. Senti, è stato un concerto meraviglioso. Poi ti passo i video perché lo faccio quasi tu. Grazie, grazie. Una tua impressione su L'U-Marino. Com'è? È un mito, è simpaticissimo, è disponibilissimo, è informissima. Aveva fatto un affiattamento. È un grande amico, sì. Un affiattamento stasera incredibile. Quanto avete provato? Niente, abbiamo fatto tre concerti, ci siamo andati i brani da suonare e l'abbiamo fatti e quindi ci siamo soddisfatti. Ti lascio e ci sentiamo promessa l'intervista. Grazie, ciao, ciao. Grazie, 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 ciao. Grazie. ... You got me breathing You got me high You got me free High, high, deep Any way you want Let it roll Yeah, yeah, yeah You got me doing what you want me Oh baby, why you wanna let go You got me doing what you want me So baby, why you wanna let go You got me doing what you want me So baby, why you wanna let go Ooh Luperini . . . .